Magi, ciao amici, ben arrivati sul nostro Magico Antistress, questo antistress per cellulare che è bellissimo, vi voglio far rilassare molto tranquillamente, quindi schiacciamo i tasti, tanto per cominciare, un altro tastino, sentite i rumori, ora un po' di rompiscatole, sentite il rilassamento, dovete solamente rilassarvi, un po' di palline, guardate le palline, come si muovono, cerchiamo la scritta Magico, no, vediamo cosa c'è, un po' di gesso, oh 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 oh, sto facendo un casino, anzi no, facciamo da capo, vediamo, ok, Magicolo, bellissimo ragazzi, con gli occhi rossi di Magico, vabbè, no, sta venendo fuori un'altra cosa, ha un po' di rotelle, per chi non ne ha, e spero vi siate rilassati con il pendolo di Newton, invece se facciamo due diventa così, vabbè no, è diventato un casino, il fidget spinner rilassamento, che fini hanno fatto i vintage spinner?